Eccoci tornati alla nostra carriera, il calcio con la B di Briglia, allenatore del nostro progetto. Siamo arrivati a quello che sarà l'ultimo episodio della prima stagione, alle porte abbiamo il derby con il porto. Prima però vi faccio vedere le maglie nuove, allora andiamo su personalizza, la prima maglia è simile ovviamente a quella vera, pensavo fosse più facile personalizzare questa maglia, invece proprio il suo motivo a scacchi che lo caratterizza ha reso molto difficile la personalizzazione di questa maglia. Mi ha aiutato un po' il fatto che i numeri sono rossi per creare questa maglia che richiama un po' la maglia del loro unico campionato vinto del 2001, quindi col colletto abbastanza largo. Ci sono i dettagli sia sui lati dei pantaloni che sulle maniche. Le maniche le ho lasciate monocolore e siccome c'è questa scacchiera, ho messo come sponsor chess.com, così ci ricollegavamo anche al PogChamps. E quindi, insomma, questa è la prima maglia. Ci sono anche gli scacchini sui calzettoni e lo sponsor tecnico è la Puma, perché mi ricordava un po' la Pantera e siccome è il simbolo del Buavista ho deciso di mettere Puma. E poi la seconda maglia io l'avevo fatta tutta bianca, sembrava una di quelle storiche del Valencia molto belle, ma alla fine ho capito che tutte le squadre in Portogallo hanno sempre queste maglie un po' bianche, un po' a righe, eccetera. E quindi ho deciso di staccare e ho visto che il Buavista ha avuto per tanti anni la seconda maglia arancione. Ho deciso di fare una maglia arancione, anche se è un arancione un po' più scuro, e io mi sono ispirato a una maglietta del 2002 con gli scacchi sui lati, il simbolo in mezzo. Personalmente trovo affascinante i lati con la scacchiera. L'unica cosa, siccome la prima ha i pantaloncini e i calzettoni neri, ho tenuto qua i calzettoni bianchi e ho messo i pantaloncini sempre arancioni. Poi possiamo giocarci su, possiamo mettere anche quelli bianchi, possiamo farli neri, possiamo decidere. Adesso vi apro la maglietta e vi faccio vedere in realtà quanto è simile a questa maglia del 2002, tra l'altro anno in cui sfoggiavano il titolo appena vinto. Vedete che la maglia è praticamente identica. E poi c'è la maglia del portiere che è abbastanza simile a questa per il collo ed è verde. Comunque quella la vedrete poi in campo, però sono molto fiero della seconda, trovo che sia molto carina e soprattutto stacca dai colori delle altre squadre. Quindi possiamo sempre giocare con la visibilità al top. Per cui dopo aver visto le maglie, poi vi farò vedere anche quella del portiere, possiamo passare a vedere un attimo la nostra rosa, poi fare la conferenza stampa e fare il derby col porto, che ce lo giochiamo. Mentre invece poi andremo a simulare le altre, ci ritroveremo qua a metà aprile con il Santa Clara e il Braga da affrontare. Qua più o meno già si capirà se riusciamo ad andare in Europa League e poi le ultime gare. C'è anche una cosa da fare ragazzi che vi chiedo subito ed è lo staff primavera. Allora, il nostro staccanovista osservatore che ha lavorato fino al 31 di febbraio, quindi il 3 marzo, ha finito il suo lavoro. È tornato indietro. Dove lo mandiamo? Io vi dico la verità, siccome siamo anche in periodo europei, sono attratto da cercare un portiere in Ungheria, che non so, è una nazione che mi ha incominciato a stare simpatica dopo il girone che ho dovuto affrontare in questi europei. È vero che i portieri si trovano spesso forti all'est, anche in Repubblica Ceca lo cercherai anche in Polonia. Va bene, facciamo così dai, l'Ungheria. Allora, sei mesi, portiere in Ungheria. Ci dedichiamo a questa parita con il porto, così rompiamo un po' il ghiaccio. Alla fine il Braga è a più uno, eh. Col Guimaray c'è a meno tre, il Santa Clara è sempre lì. Per cui addirittura, con queste ultime sconfitte del Braga, possiamo puntare al quarto posto. Però non fantastichiamo troppo, facciamo prima la conferenza stampa. Tra l'altro non si vede perché c'è la mia web che intanto mi metto qua. Ecco, sono il giocatore. Comunque non lo vedete ma è Santos che è alto come, praticamente le sue gambe sono lunghe come il giocatore del porto. Esatto, mi vestirò di aran... Troppo scura, troppo scura. Speriamo fosse lo stesso colore. A parte ragazzi, scusate, se faccio l'episodio con questa maglia addosso dovete chiamare i soccorsi però. Caldo, vestirale. Per cui la rimetto con quanto è bella la maglia dell'Olanda. Dai, non c'è niente da dire. Vado a rimetter l'altra perché con questa qua veramente muoio. Direi che così è perfetto contro il porto, derby della città di Oporto, le altre le simuleremo. Quelle che giochiamo voglio ottenere una vittoria per arrivare subito al primo anno in Europa League che sarebbe già un risultato clamoroso. È vero che abbiamo visto tanto arancione quest'anno anche con il Blackpool però siccome è presa da una maglia che è realmente esistita non è sbagliato mettere la seconda maglia arancione proprio per risolvere anche quel problema che tutte le maglie si confondono. Kunimoto subito apre per Antist, Yanis Antist, male a titolare per lui. Ormai non è la prima volta. E poi proviamo con Paulinho chiuso. Tiro! Barra Giardim. Cerchiamo di approfittare dei contropiedi come questo qua con Kunimoto. Sta facendo tutto lui. Il giocatore del porto è molto veloce però difende il possesso. Kunimoto, Antist. Dall'altra parte, Eric, il cross, Kunimoto. Sì! Para Marquesin. E vedete però come nei contropiedi la nostra formazione si delinea perfettamente. Vai! Palla dentro. Il tiro. Para Marquesin. Miracolo su Antist. Elis vai. Elis. E' velocissimo. Elis. Elis. Dentro! 1-0 per noi. Paulinho. Grande centrocampista che fa anche inserimenti. Non è la prima volta che segna. Né lui né Nuno Santos. Si risparmiano mai. Comunque devo dire che a me questa carriera, anche se fatta un po' così, senza troppe pretese, mi sta divertendo molto. Occhio però qua alla punizione di Uribe che cerca il gol da casa sua ma ci è andato anche abbastanza vicino. E' un centrocampista con un esagono russurreggiante. Il tiro 1-1. Arriva il gol di Taremi. 1-1 pari. Purtroppo qua errore nostro di impostazione. Poi loro hanno gestito bene la palla. Ma dite che ce la fa? Dite che ce la fa a spingere? E ce la fa! Attenzione! Cannon! Ancora il tiro! Stavolta murato. Abbiamo delle ripartenze clamorose, però in difesa contro una squadra così forte come il Porto rischiamo tanto. Bene. Dai, Cannon è in gioco. Posizione regolare. Elis! Ma questo è un gol magnifico. Dei due fuoriclasse del Boavista. Grande cross di Cannon. Grande gol di Elis. Fiuto del gol per la Panterita. Forza 2-1 contro il Porto. Come gioca questo Boavista? Non è più la piccola squadretta contro la grande. Sono due squadre che si affrontano a viso aperto. Allarghiamo Cannon. Mamma mia, Cannon. Elis. Il tiro. La Panterita. E poi dentro per Cannon. Può provare addirittura il tiro lui! Chiude Marchesin. Vai Lopez. Bravissimo. Super Kunimoto. Servilo bene. Elis. Stop il tiro ancora murato a difesa del Porto. Sta reggendo bene. Abbiamo comunque un CDC abbastanza fresco. Occhio. Il tiro! Non ci credo ragazzi. Doveva pareggiare sta partita evidentemente il Porto. Perché a un certo punto mi sono ritrovato questo flipper. E poi questo tiro. Che non sembrava neanche così potente. Ma che è andato proprio a baciare il palo. E a entrare in rete. 2-2. È comunque un buon risultato alla luce dell'avversario. Ne abbiamo fatto 10 tiri. 10 tiri in porta. E qua c'è tutta la difficoltà di provare ad arrivare in Europa League. Quando hai contro certi meccanismi. Secondo me nelle prossime partite qualche passo falso lo potranno fare le avversarie. Perché non le vedo molto forti. Cioè solo il Santa Clara sta tenendo davvero negli ultimi due mesi il passo. Il Braga continua a perdere. Guimarães pure. Ne ha persa un'altra. Vedete che Santa Clara invece ha già vinto. Adesso abbiamo il Tondela. Si potrebbe simulare. Antiste è salito. Allora facciamo la simulazione veloce. Allora Antiste, Antiste e Paoligno. Doppietta di Antiste e gol di Paoligno. Bene. Così mi piace. Bravi ragazzi. Andiamo avanti. Qua arriva un'offerta del PSV per Benguce. Allora non c'è squadra migliore che il PSV per prendere un giocatore come lui. È un giocatore che abbiamo messo fuori rosa perché ci piace di più Antiste. Che continuerà a crescere, continuerà a segnare. E ci servono soldi per provare a fare un gran mercato nel prossimo giugno. Quindi secondo me possiamo cederlo. Ovviamente proveremo a strappare, non so, 5 milioni e mezzo dal PSV. Sarebbe interessante. Tratta. Proviamo con 5,750. Quindi alziamo di un milione. Accetta! Ma allora potevamo anche chiedere 6. E mi sembrava tanto già passare da 4.7 a 5.7. visto che il suo valore era 4. E invece potevamo anche chiedere 6 milioni. Qua arriva un'offerta del Getafe sempre per Benguce. E qua allora proviamo a chiedere 6. Non pensavo che si fiondassero subito le squadre su di lui appena messo sul mercato. Accetta! Ok, allora se 6 rifiutano e 5.9 accettano vuol dire che più o meno il suo valore è tra i 5.750 e 5.9. Quindi non abbiamo perso così tanto col PSV. Reso conto mensile. Vediamo i nostri giovani. Miranda. Lui ha un ottimo overall ma ha difficoltà a salire perché ha delle statistiche un po' a casaccio. Se lo allenassimo E.D. non sarebbe una cattiva idea. Perché noi vogliamo andare nel prossimo anno in un 3-5-2. Dove a sinistra siamo a posto, abbiamo Eric Yamash. Ma sulla destra abbiamo Cannon che probabilmente verrà venduto. E ci vorrà un acquisto di un esterno. Una sorta di terzino destro avanzato, no? Nel calcio di oggi. E quindi magari lui potrebbe fare al caso nostro perché Tiro non ne ha così tanto. Da essere un'ala. E invece il cross è già abbastanza buono. Se noi lo alleniamo già adesso E.D. può diventare interessante. Io qua ho seguito un paio di giocatori proprio che lavoreranno per questo cambio di modulo. E quindi come potenziali E.D. E sono Danny da Costa perché è di origine dell'Angola. E quindi è di lingua portoghese. Ha preso la nazionalità tedesca. Ma in realtà potrebbe tranquillamente tornare sui passi e giocare in Portogallo. Poi abbiamo Ola Aina. Sempre attuale come nome per la fascia. Anche se adesso è prestato. Alex Vigo del River. Molto interessante questo giocatore. Un altro giocatore che può fare tutta la fascia è Aurelio Buta. Anche lui l'abbiamo avuto l'anno scorso. Il nostro Scooter Buta. Però siccome è portoghese è molto sensato da prendere magari al posto di Cannon. Ce lo vedo benissimo come sostituto. Alessio Castromontes. Anche questo mi piace molto. Belga stranamente. Però di origine spagnola ho controllato. Lui è un esterno da 352. Molto interessante. Nome un po' esotico mai sentito. A Japong. Eizibwe. Questo l'ho visto. Ha delle statistiche clamorose. Stop alle trattative per Benguce che invece accetta il PSV. Secondo me fa bene. E qua abbiamo De Oliveira che vuole andarsene. E allora lo promuoviamo. E l'altro che vuole andarsene chi è? È Miguel Miranda. E allora promuoviamo anche lui. De Oliveira. Bell esagono. Forse il più difensore di tutti. Ora abbiamo il Pino Mago. Abbiamo De Oliveira. E abbiamo Costa. Però ovviamente puntiamo molto sui giovani. Non sarebbe male un trio di difesa tutto di giocatori presi dalle giovanili. Quindi Santos, Costa e De Oliveira. E magari Del Pino Mago può stare in panchina. De Oliveira molto interessante. Miranda. Bell esagono. E adesso vediamo. Secondo me è più un esagono da COC. Ok. Adesso controlliamo Reirenze. Faremo una simulata stavolta lenta. Non rapida come l'ultima partita. Loro sono ultimi. Simula partita. Intanto proviamo il giovane brasiliano De Oliveira della primavera. Adesso sarà difficile scegliere chi tenere e chi mandare via. E arriva il gol. Antist. Bravo. 1-0. Segna sempre comunque. E vediamo qua intanto Kunimoto. 1-1. Ah no. Erano gli avversari. Suarez. 1-1. E andiamo in campo. Nuno Santos. Ovviamente non si vede una mazza oltretutto. Kunimoto. Proviamo col piede. Debole. Kunimoto. 2-1. Subito. Siamo entrati e entrati per risolverla. Entrati per decidere una partita che era in difficoltà. Ci ha pensato il Messi giapponese. Kunimoto. 2-1. Bene. Elis. Mi piace il movimento di Antist. Quindi lo accompagno con questo passaggio. Antist. Il destro ancora. Antist. Bravo Paoligno. Il cross. Elis. Ma ragazzi. Anche di testa è un fenomeno Elis. Bravissimo. La panterita. Che ora viene subito sostituita. Entra Fofanà. Spazio anche per il giovane. Bene ragazzi. Stavamo pareggiando 1-1. Poi entrando l'abbiamo risolta. 3-1. E così possiamo andare avanti. Ora la portiamo Re Renze. Poi Braga e Santa Clara. Qua si decide tutto. Vediamo se dovremo entrare di nuovo anche in questa. O se questa volta ci lasciano stare. E portano a casa il risultato. I nostri ragazzi. Porca miseria. Dai. Dai. Forza. Secondo me c'è un aspetto più randomico del simulare veloce. Quando simuli lento ho sempre la sensazione che ci siano più script. Però vabbè. Cosa devo fare? A sto punto anche se esce fuori un pareggio in sta simulata lo prenderò. Cioè io non posso sempre entrare a risolverla. Evidentemente la squadra non è pronta per l'Europa League. Cioè simuleremo un'altra stagione. Non so che dirvi. Ecco vedi che piangere funziona. Gol di Antist. Segna solo lui comunque. Una roba incredibile. Fischio finale. 1-0. È entrato Miranda. Per fortuna quindi debutto anche di Miranda. Il Porto perde contro il Belenenses. Questo è un 1-0 fantastico. E qua arriva la crescita di Giardim completata. Questa è una notizia dolente per noi. Perché ci porta a renderci conto che costerà una fucilata l'anno prossimo. Il Porto è a più 2 da noi. Il Santa Clara è a meno 3. Attenzione perché in questo momento siamo addirittura a quarti. Cambia ruolo. Rimane 67 ma diventa esterno destro. E adesso lo iniziamo ad allenare come centrocampista di supporto. Così da migliorargli l'esagono difensivo. Fatemi vedere i prossimi avversari. Ma tanto il Santa Clara già adesso è a 54. Giochiamo col Braga. Ha più senso prima giocare e poi permetterci di simulare solo se abbiamo la sicurezza che il risultato è più al sicuro. Dai speriamo sia l'ultima partita giocata di oggi. Perché vuol dire che sarà andato tutto bene. Mamma mia Giavi Garcia cosa ha fatto? Contrasto ed è uscito palla al piede fra tre avversari. Questi hanno un modulo che è molto difficile da affrontare. Il 3-4-3. Però qua ragazzi Nuno Santos dentro. Errore degli avversari. Elis. Vai. Fofanà. Stavo per sbagliarlo. Questo passaggio Elis gliel'ha data un po' lunga. Segna Fofanà. Il futuro Drogba. Del Pino Mago. Ruba palla. Con i motori. Partiamo dall'altra parte. Ma ragazzi. Mamma mia quanto è cresciuta questa squadra. Non giocava così dinamicamente l'anno scorso. E mentre lo dico Cannon fa il passaggio più brutto della stagione forse. E non abbiamo ancora visto il Santa Clara. Però attenzione. Esce Giardim. Bravissimo. Eric molto veloce. Il nostro Roberto Carlos. Principe d'Arabia. Cross addirittura sulla parte opposta per Cannon. Questa è una magia. Cannon. Palla dentro. Datro Fofanà doppietta. Ma ragazzi. Una favola per questo ragazzo. Ivoriano. Addirittura doppietta. In una partita così importante. Bravissimo. David. Datro. Fofanà. Il tiro. Gol. 2-1. Sporar. Accorcia le distanze. Il Braga. Costruzione dal basso. Che è irritante. Elis di testa. Ma ragazzi. Questo allenamento in torre. Sta facendo bene a Elis. La panterita. Che sembra più un ariete che una pantera. Con questi colpi di testa. In un finale di stagione. Che sta respirando. Grazie ai gol. Del suo campione honduregno. Palla dentro. Attenzione. Elis. Ma ragazzi. Ma un canguro sto giocatore. Awazie. Ma ancora. Nuno Santos. Il tiro. Sta giocando veramente. Con la voglia di presentarsi in Europa League. Questa squadra. Awazie. Ma ancora miracolo del portiere. Nuno Santos. Elis ancora. Javi Garcia. Attenzione. Garcia. Para Mateus. Apre giustamente dall'altra parte. La squadra sta giocando. Che è una meraviglia. Erik. Vedo l'inserimento di Elis. Non posso non servirlo. Elis. Un partitone. Della panterita. 4 a 1. Il Braga distrutto. Con un contropiede micidiale dalla destra alla sinistra. Con Erik che si accentra. Vede l'inserimento. Clamoroso. Antist. Vai per la tripletta. Fofana. Fuori. Ragazzi. Credo che il piede debole di Fofana sia un disastro. 5 a 1. Erik. Incredibile. Pure gol per questo campione. Allora. Fischio finale. Questa è un'esultanza liberatoria. Perché con questo risultato dimostriamo al Braga di essere di un'altra pasta. E superiamo addirittura il Porto. In questo momento siamo la squadra di Oporto che sta più in alto in classifica. Siamo a meno 16 e a meno 14 da Sporting e Benfica rispettivamente. Ma insomma sono di un altro livello. Già approfittare dell'anno un po' storto del Porto ci fa piacere. Ma vederci poi così distanti da Braga, Santa Clara e Victoria Guimaraes è un piacere. Io direi che a questo punto Lopez Michele giocare va bene. Secondo me possiamo simulare col Santa Clara. Simulare anche con queste altre squadre. Vedremo. E se dovessimo vincere la simulazione, la prossima volta iniziare la stagione, sapendo che più o meno queste partite dovrebbero filare lisce, possiamo già fare discorsi proiettati sulla seconda stagione. Un passo alla volta. Simula partita. Attenzione. Gol! Elis! Ma ragazzi, da quel pareggio scriptato col Porto a oggi, quanta strada è passata. Adesso il Buavista è lanciatissimo verso l'Europa. Qua arriva un'altra grande parata. 2-0. Autogol di Cardoso. Il capitano del Santa Clara. Da cui proveremo a scippare Lincoln, che è sicuramente il giocatore più interessante. Io personalmente non ho avuto questa impressione, poi so che realmente sta scherzando. Qua 3-0. Nuno Santos. Ma ragazzi. Cioè tutto avrei immaginato, tranne un finale di stagione così semplice. 4-0. Nuno Santos. Abbiamo fatto un lavoro da 10 su 10. E anche a livello di risultati, direi, a questo punto. Ovviamente, mentre ci facciamo i complimenti, ci dobbiamo beccare il gol della squadra avversaria. Sennò non saremmo noi. Però su 4-1 ce lo possiamo anche permettere. Possiamo anche giocare contro la scaramanzia. Ma sì, capite che poter già più o meno ipotecare oggi l'Europa League vuol dire che la prossima volta simuliamo, simuliamo, simuliamo. E a meno che non ne perdiamo due o tre di fila, possiamo già iniziare la seconda stagione. Sono curioso di capire se il terzo posto è valido per la Champions o no. Ma non credo perché vedendo i colorini del numero, credo che il primo e il secondo siano da Champions, terza, quarta e quinta da Europa League. Vabbè, nel caso mi confermerete. Comunque vedremo il finale di stagione la prossima volta, ma sarà un finale molto rapido. Quindi accederemo già al mercato con tutto quello che ne comporterà, i discorsi, i riscatti, i rinnovi e i nuovi nomi da inserire nella web mercato. Grazie a tutti.